Hola, allora sono nella piscina e voglio fare un video smr perché secondo me è un rumore che fa l'acqua che si sente proprio dai dispositivi, è una roba figherrima, sentite che bel rumorino se avessi la fotocamera, cioè se avessi la cover che protegge il telefono lo metterai sotto perché io adoro i video in cui si sente e fanno sopra con Dani l'altro giorno abbiamo fatto un video troppo bello con i rallenti del suo iphone che praticamente abbiamo tirato l'acqua così e a rallenti si vedevano tutte le voce che fluttuavano tipo nello spazio, è troppo figo mi fa scappare la pipì sto rumore in teoria questa piscina sarebbe di 70 cm di altezza, no 76 cm di altezza io l'ho gonfiata così, vedi, perché a mia madre è venuta l'ansia che fosse troppo pesante e si rompesse il terrazzo e finissimo di sotto tipo Fantozzi, avete presente Fantozzi nei film che finisce sempre nella casa di sotto? buonasera, ecco bene io sono una madre è diists hypol. Sì, sì. Poi davvero scopare il murino? No Voi Voi Non Non no, per chi me lo stessi chiedendo ma fai il bagno truccata ero già truccata prima di infilarmi nell'acqua, di certo non mi strucco per infilarmi in 20 cm d'acqua ma neanche me la bagno e altra domanda non sono un colottiera è un costume, è un banchini lo sentite al vicino che canta? ma porca troppo la qua c'è il telo perché gli altri anni non ci mettevo mai il telo alla piscina mi trovavo tipo una specie di parti di zanzare che galleggiavano a galla e non era affatto bello c'era tipo uno stuolo di zanzare che venivano a bere ha messo un'acqua potabile e invece quest'anno ho comprato il telo e ora sta asciugando perché giustamente ho messo il telo ma stamattina ha piovuto no non mi volevo bagnare i capelli secondo me sentite solo il suono dell'acqua e la mia voce l'ha sentita in ammerda però lo pubblico lo stesso perché secondo me almeno personalmente vedete il rumore dell'acqua mi esatto quindi appunto siamo a 9 minuti arriverò circa a 10 minuti e poi giuterò la mia voce l'ha sentita in ammerda scrivetemi nei commenti quale altro smr volete che io faccia e proverò a realizzarlo mi fa? quindi all'acqua mi interkumento o perchè sia più a dare ma dove? non ci sono neanche se non raccontate a dare un pelo pelo non ha un petto eh bene questo è tutto e ci trovo fino